Allora, voi non... Lo so che voi direte, ma che perdita di tempo è mai questa? No, è una cosa importante che devo farvi vedere, perché dovete capire che queste mappe qua sono quelle ispirate a città reali. Quindi, ovviamente, rappresentano al 100% la realtà. Questa è la mappa di Tokyo. E in quanto tale, ha in giro, sparsa della mappa, una serie di elementi importanti, tipo questa. No, torna indietro. La vedete quella cassettina delle lettere? Eh, non sembra una mogus. Vaffanculo, tir, ragazzi, io stacco. Ciao.